Continua l'attività degli uffici del Libero Consorzio Comunale di Agrigento sotto la direzione politica del commissario Raffaele Sanzo, il cui mandato è scaduto ieri 31 agosto, dopo circa 18 mesi dal suo incarico avvenuto con decreto del Presidente della Regione Siciliana. Raffaele Sanzo ha voluto salutare i dirigenti, i dipendenti, tracciando un bilancio della sua attività, ponendo attenzione verso l'ambiente, il turismo, la viabilità, la manutenzione delle strade provinciali, le scuole superiori, il personale, i servizi sociali, la pubblica istruzione e altro ancora. In tale ottica si è posta l'attività di indirizzo in rappresa dal commissario sui temi ambientali, priorità principale in vista dell'appuntamento Agrigento 2025, numerosi provvedimenti di lavoro e di messa in sicurezza delle strade provinciali per pericoli imminenti e finanziamenti adottati nel settore tecnico impegnato nella fase di progettazione nel cantiere del PNRR, occasione di sostegno ai territori. L'attività del commissario Sanzo ha riguardato altresì provvedimenti verso le scuole superiori di competenza del libero consorzio comunale, con numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di pianificare le attività scolastiche e preparare l'ingresso imminente degli studenti da qualche settimana. Un percorso politico che ha inteso abbrecciare le questioni sulla disabilità con attenzione verso gli studenti con particolare handicap e le famiglie. Particolare interesse è stata generata sul tema del turismo in attesa di Agrigento Capitale della Cultura, con iniziative mirate a rilanciare e valorizzare le bellezze della nostra provincia, con la riclassificazione di nuove strutture ricettive che hanno ulteriormente potenziato l'offerta turistica. Il commissario Sanzo ha focalizzato il suo mandato al tema del personale dell'ente, attraverso una rimodulazione dei servizi, la stabilizzazione di 120 dipendenti ex precari, al quale è stata garantita la stabilità economica e professionale. Raffaele Sanzo altresì rivolto un doveroso ringraziamento ai dirigenti e al personale dell'ente, ai quali ha lavorato con efficienza e trasparenza. Un ringraziamento anche ai sindaci della provincia per la profigo collaborazione che nelle diverse sensibilità politiche hanno saputo cogliere e sostenere gli interessi della comunità amministrata.